Sì, è 6 o'clock in maniera, sono in Splitt, in Croazia, nel terminal del ferro, e ho un ferro per l'islanda di Wyss per una missione super segreta, ok, ora qui in Wyss e in questo ora prenderò la nostra prima stagione per il progetto, in total siamo 5 e questo è solo perché le permissioni per arrivare in queste super segrette Wyss sono molto difficili Ciao! 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 C'è un progetto? Ciao! Ciao! Quindi il giorno 1 del progetto finisce, oggi siamo abbastanzaiscite la Red Italia, questo è un che si trova in 1866 durante una grande battaglia la battaglia tra l'Italia e l'Empire austro-hungarico perché era una battaglia di volante, una battaglia di volante ma anche con avventure di ferro che si trova a 110 metri è uno dei primi battagli che inizia a avere armature di plaita Vair Lugare Rovori 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 Grazie a tutti. So the dive I think went pretty well, we did something like half an hour, a little bit more on the bottom. The rack is of course not in perfect conditions, it's kind of nice, all the area in the bow, there is all the steel part that is still intact, so you can see all the shape of the bow. Then in the middle part, it's kind of a mess to understand exactly how it was, because all the wooden part is just disappeared. We cannot say it's beautiful, but it's definitely very interesting. So it's interesting to see the level of deterioration of the ship after 170 years in the Mediterranean Sea. It's the first time that we see something of this age. Even if it's not spectacular, it has impressive details, like it has no less than 10 or 12 of gigantic guns, but very big, I don't know if these are 220 or 150, which kind of guns they are. We will have to focus and document them better, because it's really the worst. And the ram itself is also, I checked it in detail, how it's attached to the bow, it's really a privilege to visit this place. For me, it's the dream of a whole diving life, becoming true, so I'm very excited.